Se da bambini avete amato i pangoccioli dovete sapere che li ho amati anche io Anche se bambino non lo ero più già da un bel po' Ma è meglio tralasciare questo discorso E oggi vi mostro come prepararli a casa vostra con pochi e semplici passaggi Quindi allacciate i grembiuli che iniziamo Il trucco per un pan brioche sofficissimo è quello di preparare il tang zong E ora vi mostro come prepararlo In un pentolino inseriamo l'acqua e la farina E a fiamma media iniziamo a mescolare fino a quando non si addensi Dovremo ottenere una consistenza appiccicosa Trasferiamo il composto in un contenitore Mettiamo una pellicola a contatto e lasciamo raffreddare completamente Ora nel latte sciogliamo il lievito di birra e lo zucchero All'interno della planetaria inseriamo la farina Vi ricordo che come sempre la scheda degli ingredienti la troverete alla fine del video Facciamo partire la planetaria ed inseriamo poco per volta il latte con il lievito e lo zucchero Quando la farina avrà incorporato tutto il latte possiamo aggiungere anche le uova Possiamo inserire anche il tang zong Quando l'impasto inizierà a staccarsi dalle pareti della planetaria Possiamo iniziare ad aggiungere il burro poco alla volta Quando l'impasto avrà incorporato anche tutto il burro possiamo aggiungere il sale Nelle fasi finali cambio il gancio Tolgo quello a foglia e inserisco quello a uncino E per ultimo inserisco il cioccolato fondente tritato Quando l'impasto sarà pronto facciamo qualche piega di rinforzo Lo trasferiamo all'interno di una ciotola già imburrata Lo copriamo con pellicola alimentare e aspettiamo il suo raddoppio Quando l'impasto avrà raddoppiato il suo volume Possiamo formare dei panetti da 70 grammi ciascuno Facciamo ancora qualche piega all'impasto e poi lo pilliamo Facendo questo movimento Otterremo così una palla di pasta che trasferiremo all'interno di una leccarda Ripetiamo questo procedimento fino a terminare tutto l'impasto Una volta preparati tutti copriamo con pellicola trasparente e li lasciamo riposare per un'ora Trascorsa un'ora i nostri panetti saranno lievitati Ora non ci resta che spennellarli con un po' di latte e un tuorlo E adesso siamo pronti per infornare con forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 15-20 minuti E adesso i nostri pangoccioli sono pronti per essere gustati Pronto e servito Grazie per la visione